Quando sono solo in casa e solo devo restare Per finire un lavoro o perdere un raffreddore C'è qualcosa di molto facile che io posso fare Accendere la radio e mettermi a ascoltare Amo la radio perché arriva dalla gente Entra nelle case e ci parla direttamente C'è una radio libera, ma libera veramente Piace anche di più perché libera la mente Grazie a tutti Grazie a tutti